Ho 17 anni, sono nata qua a Roma e le mie origini sono Filippine. Sono stata nelle Filippine quando avevo 2-3 anni e di quello che so adesso del mio paese è che molta gente è costretta ad andare via per colpa dei cambiamenti climatici, ad esempio alluvioni, entere città allagate, gente che perde la propria casa e molte volte anche la propria famiglia. Grazie a tutti.